Quarto giorno del Festival del Film Locarno, è sabato, è ovviamente inutile girarci intorno, è una delle giornate più attese perché l'evento è grande. Sì, aspettiamo la proiezione di Cowboys and Aliens sabato sera in Prima Europea sulla Piazza Grande e aspettiamo anche tutta l'equipe del film con il regista John Favreau, la protagonista Olivia Wilde, Daniel Craig e Harrison Ford. Dunque tutti i protagonisti di questo western di fantascienza, il più grande, il più grosso blockbuster dell'estate americano che arriva a Locarno sulla Piazza Grande. Un film che mischia, tanto per continuare il discorso sui generi, due generi, il western e la fantascienza. Sì, è un film originale perché non è un remake, non è un seguito, non è un film di supereroi, è un concetto più originale o trattato da un fumetto e il film è veramente molto divertente e soprattutto l'occasione di ritrovare Harrison Ford in un ruolo di eroe. Come tanti ho una relazione molto personale direi con i film di Harrison Ford perché mi ricordo quando avevo dieci anni i tre film che avevano i più impressionati erano Star Wars, i cacciatori dell'arca perduta e Blade Runner. Harrison Ford era nei tre film, dunque è diventato per me un eroe, un mio attore preferito, dunque è un sogno che diventa realtà di incontrare Harrison Ford e penso che siamo tutti molto eccitati di vederlo e di invitarlo a Locarno. Harrison Ford non solo quindi un attore ma un vero e proprio pezzo dell'immaginario cinematografico internazionale per tutte le generazioni e la piazza poi prosegue con un altro film importante come Drive. Sì, è il film di mezzanotte, c'è un secondo film americano che si chiama Drive e il film fu mostrato al Festival de Cannes dove ha vinto il premio della mise en scène della regia al regista danese Nicholas Weeding Refn che lui è già un regista di curto, ha fatto la trilogia Pusher, ha fatto Bronson, ha fatto Valhalla Rising è un autore emergente del cinema europeo con un stile, con una visione del cinema molto impressionante e dunque il suo primo film hollywoodiano, il protagonista è Ryan Gosling che è bravissimo nel film è un noir girato a Los Angeles, è un film bellissimo che è un film che fa dei riferimenti molto precisi al grande cinema noir hollywoodiano però piuttosto degli anni 70, 80 come i film di William Friedkin, di Michael Mann, di Walter Hill e veramente sul punto di vista della regia è uno dei più belli film dell'anno e penso che sul grande schermo della Piazza Grande sarà veramente grandioso Piazza Grande quindi sicuramente dà il grosso impatto visivo poi come dire, passando invece al concorso internazionale, volando sopra le varie proposte del concorso internazionale c'è da segnalare, questa è ormai una consuetudine da anni, ma la presenza dei documentari qui è il caso per esempio di Volspecial, i documentari che sono ormai parte integrante dei concorsi internazionali direi che il documentario fa parte del cinema e dunque l'anno scorso abbiamo deciso di includere opere documentarie nel concorso internazionale se lo meritano e l'anno scorso c'era un grande documentario cinese, Karamai che ha avuto un grande successo, un film di 5 ore però molto forte e quest'anno c'è un nuovo film documentario in concorso internazionale, un film svizzero Volspecial di Fernand Melgar, già vincitore di un pardo d'oro CDP con la forteresse e dunque un film molto aspettato perché è un film che parla di un soggetto di società importante in Svizzera e negli altri paesi, film sull'immigrazione, dunque un film che farà parlare al livello del cinema però anche penso al livello societale e politico dunque è interessante dimostrare un film impegnato che è molto onesto, molto intelligente su un punto d'attualità che concerna tutti. Quindi cose molto vicine legate alla politica e cose molto più lontane legate all'immaginario oggi al festival del film, buona giornata Olivier, buona giornata.